Buone notizie per la bonifica dell'ex isochimica di Avellino. Questa mattina, infatti, la Commissione Bilancio del Senato ha approvato un emendamento che stanzia complessivamente 6 milioni di euro per il biegno 2016-2017. 3 milioni per ogni anno, dunque, per il risanamento ambientale di quello che negli anni 80 è stato lo stabilimento dove si scoibentavano dall'amianto le carrozze ferroviarie. Lo stanziamento del finanziamento è avvenuto nell'ambito dell'approvazione in Commissione al Senato dell'emendamento che riserva parte dei fondi stanziati per la terra dei fuochi all'ex fabbrica dei veleni di Borgoferrovia. Un buon inizio accolto con favore dai primi firmatari del provvedimento. Si tratta di un importante passo in avanti, hanno dichiarato i due parlamentari del PD, Vincenzo Cuomo e Luigi Famiglietti, di cui siamo soddisfatti. Mentre la magistratura, dato avvio al maxiprocesso contro 29 persone accusate a vario titolo di omicidio plurimocolposo, disastro doloso e disastro ambientale, la politica, come giusto che sia, si preoccupa di avviare la bonifica di questo sito gravemente inquinato. Nei prossimi due anni, con questi 6 milioni di euro, si potranno cominciare i lavori di una bonifica necessaria e delicata. Resta però da completare la risoluzione del noto degli ex lavoratori. Intanto, in Commissione Infortuni sul Lavoro al Senato, sono in programma per martedì 24 novembre alcune audizioni in merito ai profili di tutela della salute e sicurezza sul lavoro connessi all'amianto, inerenti all'ex isochimica. Saranno ascoltate il procuratore della Repubblica di Avellino, Rosario Cantelmo, e la responsabile del Dipartimento Territoriale INAIL di Avellino, Grazia Memmolo.